Adesso ti vuoi fare prete, dopo il cocktail alcolico, penso che cambierai vocazione, dici qualcosa. Allora, sentiamo la versione prima del cocktail. Infatti, avanti, Andrea è spinto. Meglio che non ne esprimano. Lei è la festeggiata. Lei è Mimmo, lei è Mimma. Quanto manca. Lei è abituata a stare davanti alla telecamera, lei è famosa come la fabbrica di cioccolato. Lei è famosa. Lei è Willy Wonka. No, lei è Marilisa Wonka. Perché Marilisa Wonka? Sono la nipote. La nipote della... Perché è bravissima a fare dolci. E non solo dolci. Lei è famosa. Quei dei dolci squisiti. Diciamo che ci metto il cioccolato un po' un... Ora mi fai tutti i dolci senza uova. E poi ho saputo che ne fai i dolci senza uova. Non ci vuole niente a fare dolci. Basta mettere il cioccolato dappertutto. Guardami, guardami, Andrea. Non sono affattogenico. Perché se sbaglio, se sgarro.